Quasi un anno fa iniziavano i lavori di riqualificazione della Villa del Carmine, uno spazio verde fondamentale per il quartiere. I lavori previsti per una durata di 180 giorni avrebbero dovuto restituire ai residenti di Martina Franca una villa moderna e rinnovata, adatta alle esigenze della comunità. Oggi però il cantiere è ancora chiuso e i lavori non sono terminati. Ci vuole del tempo ancora. Adesso la villa non so perché non la apro. Nunzia Convertini, assessore ai lavori pubblici, quando i cittadini potranno riavere Villa Carmine? Villa Carmine sarà riaperta entro le prossime settimane. Sono ormai stati consegnati i lavori e siamo nella fase del collaudo tecnico da parte del direttore dei lavori. L'area Cani è stata reintegrata? Sì, abbiamo fatto una variante in corso d'opera che quindi ha anche allungato poi i tempi del lavoro e rispetto a quella che era la naturale scadenza, in cui è stata ridisegnata un'area Cani all'interno della villa. Quindi abbiamo dato a coloro i quali ce l'hanno chiesto poi a gran voce già un anno fa uno spazio per i nostri amici a quattro zampe. Quindi sarà circoscritto, chiuso con i giochini, è alberato quindi anche fresco. Per quanto riguarda la piazza antistante, dove la pavimentazione è danneggiata dalle radici degli alberi, si attende invece un finanziamento per avviare il secondo lotto di interventi. Con questa riqualificazione, bambini, famiglie e sportivi potranno usufruire di uno spazio sicuro e attrezzato. È bene che si riapra, più presto possibile. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere la villa finalmente riaperta, restituendo ai cittadini un luogo all'altezza delle loro aspettative.